Credo che debba essere uno che di bilanci ne capisca perché l'anno si chiude con un passivo, come dire, significativo. Certo non sarebbe male se fosse un conoscitore della luminosa storia del socialismo europeo, della lotta di classe, dell'emancipazione culturale dell'Umpen Proletariat. Me lo vedo, guidarci per le vie del quartiere, con te in processione ovviamente, inneggiando ai diritti, alla libertà, all'uguaglianza.